Antonio Conte è il nuovo allenatore della SSC Napoli. Il mister azzurro ha fermato il suo contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi anni, un legame che i tifosi azzurri sperano possa durare a lungo e portare la squadra alla vittoria di tanti trofei, in campo nazionale ed internazionale, la squadra del cuore di Antonio Conte, tutto per il club che allena ma nel cuore l'Arezzo, il nuovo mister, come i suoi predecessori, però, non tifa Napoli ma un'altra squadra, l'Arezzo. A svelare la sua passione calcistica lo stesso allenatore ai tempi della Juventus, io sono un tifoso della Juventus solo perché alleno i bianconeri. Allo stesso modo sono stato il primo tifoso dell'Arezzo. E se allenassi Inter o Milan sarei il primo tifoso di Inter e Milan, sono un professionista e darò tutto per la squadra in cui andrò ad allenare, dichiarò l'allenatore pugliese. Con la firma con il Napoli, quindi, Antonio Conte diventerà un tifoso del Napoli acquisito e sicuramente sarà necessario poco tempo per far entrare la città azzurra nel cuore dell'allenatore.